Sì, a seconda di chi parla. Funziona? Sì. Forse non ce ne sarebbe bisogno, ma visto che registri ha. Allora, l'idea di questa mattinata è riprendere, diciamo, le fila della giornata di ieri, dando la parola, ieri abbiamo ascoltato con attenzione le comunità che si sono raccontate e abbiamo anche sperimentato un modo diverso rispetto alle precedenti edizioni, lasciando più tempo, saluto Gianmarco che è arrivato, che fa parte della nostra equipe di lavoro di Aga e che ci ha raggiunto, ieri non ha potuto essere presente. L'idea è quella di, diciamo, stabilire anche un sistema di scambio e di dialogo più forte rispetto a quelle che sono le presentazioni frontali con i PowerPoint, è un tempo molto contingentato, quindi abbiamo un po' alleggerito e dato più tempo, perché una delle questioni sulle quali abbiamo riflettuto insieme alla luce delle giornate precedenti è proprio quello del tempo. Allora, forse introdurre anche dicendo che questa è la prima, come abbiamo un po' già detto ieri, la prima volta che l'incontro avviene presso una delle comunità della rete, quindi sui territori e che quindi da le città Verona e Roma ci stiamo spostando con questi incontri itineranti per coprire un po' la ludodiversità anche dell'Italia, proprio nazionale. È una modalità di lavoro interessante e anche innovativa sulla quale vorrei anche sentire i commenti e le riflessioni della piccola comunità anche scientifica di studio che è qui presente, l'Istituto Centrale per la Demo Antropologia che sostiene questo percorso, con Rosanna e Stefania, e poi anche abbiamo invitato Daniele Parbuono, che tra l'altro l'idea era anche quella di fare un po' un giro di tavola per presentarsi, perché in realtà ieri abbiamo avuto le presentazioni, però non tutti sappiamo quali sono anche i nostri percorsi e a proposito di biografia è importante anche capire noi tutti che siamo qui, perché siamo qui, chi siamo, che cosa ci ha portato anche qui e poi riflettere su anche Agostina Lavagnino che ci raggiunge per la Lombardia, l'archivio con il quale stiamo facendo veramente un percorso anche importante di lavoro e di ricerca. Quindi questa mattina ha questo duplice obiettivo, riflettere sui contenuti proprio del lavoro che si è svolto ieri, quindi anche mettendo in luce dei collegamenti fra quello che è il patrimonio ludico e più in generale la cultura dei territori, perché mi pare che veramente ieri abbiamo avuto una serie di esempi, siamo entrati proprio dentro nella vita anche delle comunità che si sono raccontate e anche riflettere sulle modalità di lavoro. Quindi rispetto alla questione dei tempi, questa riflessione più aperta che si può lasciare anche dopo che ognuno si racconta, avete visto che abbiamo un po' dialogato intorno a questi casi, non abbiamo fatto come si fa spesso, si passa da un intervento all'altro e poi il dibattito in fondo. Quindi ecco, sono tutte cose che stiamo sperimentando, vivendo insieme e come vi dicevo ieri in introduzione, è anche un esempio per altri paesi perché ho portato un po' l'esempio di quello che stiamo costruendo al forum delle ONG dei ricercatori che si riuniscono ogni anno durante il comitato intergovernativo della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale portando un po' l'esempio, l'esperimento di quello che stiamo facendo in Italia. Quindi in qualche modo ci sentiamo anche responsabili di un cantiere che abbiamo aperto con Stefania, con Agostina, Renata Meazza, insomma con tanti colleghi che in questi anni, dal 2016, si riuniscono in questa prospettiva proprio di condivisione del lavoro con le comunità. Un'altra questione sulla quale vorrei sentire anche voi è questa del... vedete che nella cartellina abbiamo messo qualche documento. Per questi documenti c'è il manifesto di Aga e mi piacerebbe che sinteticamente Paolo anche richiamasse un po' quel momento e quelli che sono i criteri con cui Aga seleziona tra virgolette le comunità che vengono invitate ogni anno a Toccati e quindi ripercorrere un po' anche questa storia i principi di etica, i dodici principi di etica che sono sempre più utilizzati nel cantiere del patrimonio immateriale proprio perché la questione fondamentale è quella del rispetto, diciamo, delle comunità, dei portatori di patrimonio. E le discussioni di quest'anno, quindi vi porto anche un po' nel vivo di questo viaggio che ho appena fatto, hanno proprio toccato fortemente il tema del gioco. Perché? Perché abbiamo avuto, dopo un referaggio, tra l'altro, pluriennale finalmente l'iscrizione della lotta tradizionale Sirium della Corea delle due Coree. Quindi, diciamo, il gioco e gli sport alziani sono stati un po' al cuore delle discussioni e i lavori del comitato si sono proprio aperti con un discorso della direttrice generale dell'UNESCO su il valore di queste pratiche culturali per il dialogo fra le culture. Quindi, in qualche modo, come proprio dal mondo delle pratiche ludiche tradizionali e proprio in questo esempio l'UNESCO ritrovi tutto il suo senso, il senso della costruzione della pace attraverso appunto una conoscenza dei patrimoni culturali e come il gioco sia un vettore straordinario. Ecco, su questo poi tante esperienze, anche nelle scuole, ci portano a considerare il potere, in qualche modo, del gioco. Perché? Perché non è soltanto la parola è anche il corpo. Ci sono tutta una serie di ragioni per cui giocare insieme è più facile ed è più forte come esperienza. Quando abbiamo avuto la palla E di Ciciano che diceva i ragazzini stranieri che arrivano in paese, la prima cosa che fanno giocano a palla E in piazza, prima di imparare l'italiano. Quindi, questo è anche interessante, il rapporto appunto alla cultura del corpo che è un po' come l'alimentazione. Allora, la questione del rapporto fra patrimonio, culturali, materiali e sport è stata trattata in un punto particolare dei dibattiti di questo comitato che è il punto 16 del rapporto dell'organo di valutazione che ha scritto questa piccola, diciamo, che volevo leggervi proprio per, così, aprire un po' il dibattito. Considerando la recente tendenza e il crescente numero di candidature relative allo sport, l'organo di valutazione ha discusso le frontiere fra gli sport e i giochi tradizionali e le loro forme professionali. perché abbiamo, insomma, anche ieri abbiamo riflettuto sul fatto, no? Ci sono casi come la ruota in cui veramente il gioco è parte di un tessuto comunitario ed è quello il suo senso e la sua funzione e altri casi in cui invece si va più su pratiche sportive molto strutturate, organizzate, eccetera. Quando descrivono gli sport nei loro dossier gli stati part, ecco, questo naturalmente considerate che è un rapporto che si rivolge ai governi, dovrebbero mettere in luce e spiegare in maniera più approfondita il loro ruolo e il loro sistema di organizzazione piuttosto che concentrare... no, scusate, gli stati parte spesso mettono in luce e lavorano sul loro ruolo dei giochi e il loro sistema di organizzazione piuttosto che concentrarsi sul loro valore come pratiche culturali e il loro ruolo per le comunità. Per quanto riguarda... alcune riflessioni si sono concentrate sulla conformità con l'articolo 2 della convenzione, cioè sono i giochi e i sport tradizionali veramente patrimonio culturale, come definito dalla convenzione, quindi qua magari poi potremo rileggerci anche la definizione. L'organo di valutazione ha concluso che gli sport e i giochi tradizionali possono essere espressioni del patrimonio culturale e materiale quando sono pratiche basate sulla comunità, con community base, come si dice in inglese, con un chiaro significato culturale, sono costantemente ricreate e trasmesse attraverso le generazioni e quando il dossier di candidatura racconta come questa pratica fa parte del patrimonio di una comunità locale in un ambiente non professionale. La professionalizzazione degli sport e giochi tradizionali può diminuire il loro statuto culturale. Quindi qua c'è evidentemente una riflessione importante perché siamo in una questione di frontiere, di confini. Quindi questo è un tema sicuramente di grande attualità sul quale anche possiamo riflettere insieme alla luce delle esperienze che abbiamo ascoltato ieri. Un altro aspetto sul quale mi sembrava importante richiamare l'attenzione è tutti questi collegamenti. Nell'ultima presentazione che abbiamo ascoltato della Sburla la Roda abbiamo visto che il Mauro Ferrari, sociologo, ha messo in luce tutte queste connessioni. effettivamente se noi vediamo i due grandi temi forti che troviamo nel racconto del gioco nei racconti del gioco sono il collegamento con la festa che è fortissimo e qui a Mede abbiamo appunto il collegamento del palio addirittura durante la ricerca ci si diceva è stato il palio che ha poi provocato anche una rivitalizzazione del gioco e questo è molto interessante e mi piacerebbe anche che ce lo raccontassero che poi ieri su questo insomma non abbiamo riflettuto e poi il rapporto col cibo ieri abbiamo avuto una giornata che si è conclusa con una scena che è stata come un viaggio attraverso i piatti del territorio e questo è successo regolarmente durante la ricerca etnografica una ricerca etnografica di carattere particolare perché noi siamo stati accolti dalle comunità che avevano preparato in qualche modo il loro racconto che sempre e sistematicamente si è concluso con delle cene e in alcuni casi il rapporto tra cibo e gioco è proprio fortissimo come nel caso degli gnocchi con la sborda in altri casi è meno diretto ma è sempre molto importante e quindi la socialità e il cibo ecco quindi diciamo questo ordine di riflessioni ecco vi propongo quindi un giro un po' di pensieri in questa tavola rotonda e anche quello che su questo insomma questa frontiera un po' un po' così anche critica no? effettivamente se voi pensate ai racconti di ieri alcuni quando il gioco è meno professionale meno sportività abbiamo un racconto comunitario molto forte molto ricco progressivamente invece ci si concentra di più sul gioco e sulle sue caratteristiche la sua tecnicità e meno sul contesto quindi ecco probabilmente uno dei ruoli anche di associazione giochi antichi è aprire questa riflessione portarla avanti e avere maggiore ricerca e possibilità di ricerca sicuramente aiuterà quindi nei prossimi anni anche come dire pensare a continuare la ricerca che abbiamo iniziato per esempio adesso in regione Lombardia continuarla su altri territori c'è Daniele Parbuono che anche con la scuola di specializzazione potrebbe aiutarci a identificare anche delle possibilità di ricerca con giovani studiosi e poi la questione della rete quindi aprire e continuare questo processo che è un processo di riflessione vedete come ognuno porta con i propri casi qualcosa di nuovo di più a questa visione che si sta costruendo del gioco sport tradizionale come patrimonio culturale delle comunità non so a chi dare la parola forse a Stefania che è accanto a me e poi proseguiamo il giro ho acceso a due o non dico niente o parlo un'ora devo fare una scelta è acceso? sì allora una delle riflessioni principali che ovviamente parliamo a braccio e quindi non abbiamo uno schema che mi è venuta a mente ieri vedendo la differenza sostanziale tra insomma i racconti le narrazioni che abbiamo avuto proprio l'onore di ricepire è stata quella della differenza di eventuali azioni di salvaguardia allora mentre per alcune situazioni la salvaguardia tra virgolette sta proprio nella diffusione nel tramandare ai bambini delle scuole nel diffondere nel collegare strettamente alla valorizzazione dei territori dei saperi manuali del patrimonio alimentare quindi è una scaletta tipica dell'attività di salvaguardia in altri casi come nella ruota in realtà probabilmente meno si conosce più si salvaguarda perché è quasi un rito cioè non è tanto un gioco immaginiamo se arrivassero il pullman di turisti allora lì questione di sicurezza chiusura delle strade peso della boccia non credo che insomma nessuna prefettura darebbe l'autorizzazione a buttarsi nel torrente gelato il 26 dicembre quindi voglio dire quello che dobbiamo sempre considerare è che l'importanza della rete non sta mai nella standardizzazione delle attività ma sta però per noi è ovvio ma per chi forse ci guarda da lontano magari non è così tanto ovvio quindi l'importanza di una rete è proprio quella dello scambio delle pratiche di salvaguardia nel rispetto reciproco perché voglio dire la rete del Tocatì è una rete strutturata di soggetti che si conoscono e si rispettano ma il modello rete potrebbe poi diventare invece pericoloso cioè voglio dire potrebbe essere un tipo di salvaguardia che ha una vero un dialogo continuo con la comunità ma poi potrebbe avere un processo di standardizzazione che diventerebbe poi pericoloso per i soggetti che vuole invece tutelare questo visto dal punto di vista di istituzioni che salvo alcune eccellenze come per esempio la regione Lombardia non sono poi così mature nel ragionamento della salvaguardia del rispetto dei patrimoni materiali apposta io ieri ho parlato un attimo di Faro cioè Faro è importante anche se la applichiamo solamente al contesto europeo perché anche se l'Italia prima o poi adesso c'è scritto un po' ovunque che ratificherà entro non so quando è stata posta in discussione non ci credo ma ci spero Faro consente proprio la diversificazione delle attività perché consente alle comunità di dire che cosa è patrimonio e come intende mantenerlo cioè io voglio dire ieri sono stata particolarmente sorpresa e contenta che quando abbiamo digitato ruota e abbiamo trovato una sola voce su internet viene fuori quella della regione Valle d'Aosta che mette una piccola proprio non c'è ancora non si trova e poi un'altra suggestione diciamo che a me è venuta in mente è che quando appunto abbiamo adesso abbiamo iniziato quella che io continuo a chiamare nostalgicamente comunità nostalgica carovana toccati perché mi piaceva questa cosa della carovana che girava non abbiamo mai pensato e magari questo è uno spunto che potremmo sfruttare che andando sui territori e quindi non avendo problemi logistici grandi potremmo sempre coinvolgere una scuola cioè visto che quasi sempre cioè quasi sempre i giochi vengono comunque raccontati ai bambini vengono diffusi attraverso beh però a Roma l'abbiamo fatta al contrario no io invece propongo non di raccontare ai bambini ma di farsi raccontare ai bambini della comunità come che esperienza hanno del loro coinvolgimento nel gioco quando c'è ovviamente perché probabilmente ci saranno giochi giocati da adulti che non vengono poi alla fine divulgati come pratica ai bambini delle scuole però ci sono anche casi per esempio le le bisse hanno detto che fanno delle attività nelle scuole quindi ecco voglio dire se ipotizziamo fossimo andati a Bardolino sarebbe stato interessante proprio coinvolgere i bambini e sentire come lo percepiscono cioè avere un ritorno dalle attività che vengono fatte dalle insegnanti e comunque dai giocatori sui bambini coinvolti quindi avere un po' il ritorno e capire come lo percepiscono e poi ecco insomma ieri è emersa questa grande differenza tra proprio le le strutture che le comunità mette mette in ballo io sono rimasta particolarmente colpita delle delle balle lì non mi ricordo come si chiama delle rotoballe perché diciamo lì c'è un legame forte col territorio con la promozione con la valorizzazione e mi domando e domando a voi ovviamente sono tutte domande le mie come come si può conciliare poi un distacco netto tra un'attività ludica che diventa così proprio fatto sociale totale sarebbe piaciuto a Ferrari questo paragone e come arginare lo sconfinamento nella commercializzazione cioè quel caso è un caso abbastanza particolare perché se noi leggiamo il manifesto di Aga noi a un certo punto leggiamo non legame commerciale invece quando comincia a diventare terreno di promozione di che ne so dell'agriturismo comunque che è poi in realtà l'indotto virtuoso che dovrebbe attivarsi ma non deve essere poi la vetrina quindi forse andando avanti nella maturità diciamo delle delle comunità che fanno parte della rete troveremo probabilmente pure questo tipo di difficoltà che è un po' quella che ha incontrato poi in generale la convenzione 2003 infatti insomma Valentina sa che spesso e volentieri le iscrizioni nella lista di salvaguardia si fermano su dibattiti di ore perché gli elementi che vengono iscritti hanno una forte commercializzazione come è successo una volta sui tappeti non mi ricordo dell'Afghanistan mi sembra questi tappeti erano stati la tradizione del tappeto annotato a mano era stata recuperata c'erano delle scuole c'erano dei ragazzi che sapevano di nuovo avevano recuperato i telai però c'era pure stata una forte commercializzazione e quindi una parte più purista del comitato bloccava l'iscrizione perché l'elemento era troppo commerciale quindi diciamo nell'evoluzione poi delle pianificazioni di salvaguardia c'è pure il rischio questo tipo di rischio e poi insomma voglio dire l'impressione generale è stata positiva l'impressione pure secondo me è quella di una cantiere pilota per il ministero ora voglio dire io posso parlare da studioso e conosco tante reti più o meno mature e da insomma portavoce dell'istituto e devo dire che per l'istituto è la prima esperienza di questo tipo cioè non c'è mai stata un'esperienza simile a questa e penso sia positiva e credo che sia pure con tutte le cautele del caso riproponibile non duplicabile perché sarebbe impossibile ma riproponibile se non altro come proprio materializzazione della funzione prima dell'istituto centrale per la demometro antropologia che è quella di fare da ponte tra le comunità e le istituzioni quindi per noi è stata un po' la prima volta che abbiamo realmente materializzato quella che è la nostra mission insomma una cosa volevo dire a proposito della over commercializzazione vi ho letto il punto relativo agli sport professionali un punto che appunto riguarda in particolare gli artigianati è proprio dedicato anche quest'anno come praticamente tutti gli anni nei rapporti degli organi all'over commercializzazione e in cui si fa una serie di distinzioni molto interessanti allora vi leggo alcuni elementi particolarmente quelli che riguardano le conoscenze e le capacità associati con gli artigianati tradizionali possono avere un aspetto un forte impatto commerciale ciò che generalmente non diciamo non ci deve né stupire né essere necessariamente considerato indesiderabile quando la commercializzazione degli artigianati consente ai praticanti che non so mai come tradurre ai praticanti di essere una fonte permanente di sopravvivenza la loro sostenibilità è sicuramente da come dire favorire ciò nonostante alcune candidature non dovrebbero concentrarsi in primo luogo sugli aspetti commerciali di questi elementi cioè è normale che si commerci ma non che quello diventi la priorità per questo motivo bisognerebbe sempre dare mettere in luce i valori sociali e culturali di queste attività quindi l'idea dell'organo si è brava però l'idea dell'organo qual è? eh lo so però il commercio in qualche modo può anche svuotarsi di questi significati perché questo accade chiaramente qui Daniele qui si tratta delle indicazioni che vengono date ai governi quindi chiaramente non cioè sì però queste più che rigidità secondo me sono punti di riflessione cioè tu considera che un organo di valutazione formato da esperti organizzazioni di tutti i paesi del mondo si riunisce dice cosa facciamo in questo caso cioè come ci comportiamo di fronte a un dossier che è scritto che vediamo benissimo che c'è solo quell'aspetto commerciale che alla fine domina no? perché questo è il problema della quindi ecco e qui poi c'è tutto il tema del legame fra sì 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 certo allora sì allora io sono William Perry non ho esposto William è il mio nome vero sì è il mio nome è vero sono stato invitato dalla Proloco Lombardia più come spettatore perché il mondo ludico per me è una cosa che ho scoperto nell'ultimo anno e mezzo mio padre costruisce i giochi che avete visto lì all'ingresso e tutto è partito come vi dicevo un anno e mezzo fa con questa semplice domanda papà quanti giochi hai nel box non ha saputo rispondermi allora in un anno e mezzo ho fatto l'inventario siamo arrivati a 200 giochi circa costruiti da lui inizialmente da idee sue adesso onestamente con internet qualche spunto lo si prende allora ho contattato il presidente delle Proloco Lombardia ho preso appuntamento e mi fa può interessarti venire a questo incontro e gli ho detto certo la cosa che mi ha incuriosito è l'immateriale ovvero qua si parte dal gioco e si va alla comunità io invece pensavo il gioco come allontaniamo i ragazzi dagli smartphone e quindi una cosa immateriale e riportiamola a una cosa reale cioè tangibile alla concretezza e quindi mi ha in senso colpito le giornate proprio dell'immateriale ho detto sono arrivato incuriosito cercando di capire cosa cosa fosse e e mi sbagliavo nel senso avevo arrivato con un'idea e mi sono accorto che l'immateriale in questo caso ha un valore superiore al gioco giocato cosa che magari sbaglio cioè nel senso questo è il messaggio che è arrivato a me poi cioè realtà piccole che si riescono a a fare grandi con giochi semplici perché abbiamo lui che cioè con materiali poveri poverissimi ha creato un gioco e va a unire addirittura a livello internazionale perché va a a sconfinare diciamo i suoi piccoli confini comunali e va addirittura bene non erano appunti quindi riesco andare avanti a parlare lo stesso no e niente era solo questo una piccola riflessione perché comunque sono venuto come come spettatore come ascoltatore più che altro non pensavo neanche di fare un intervento sinceramente eccomi allora proprio due parole per per così parlare perché sono qui e allora con Stefania appunto condividiamo questo lavoro all'Istituto Centrale per la Demoletro Antropologia sono abbastanza nuova le tematiche del gioco delle comunità ludiche però vengo da un lavoro anche abbastanza lungo di collaborazioni con cosiddette comunità soprattutto di migrazione di diaspora e di collaborazione anche istituzionale con questo tipo di comunità nell'ambito della di progettazione europea per realizzare progetti di museografia partecipativa quindi in qualche modo la riflessione su come le istituzioni possono lavorare con le comunità come il senso del patrimonio può essere rinnovato in un'ottica contemporanea attraverso il dialogo con le persone che poi sono in qualche modo detentori di saperi legati ai patrimoni culturali insomma queste sono tematiche su cui ho riflettuto lavorato e quindi in qualche modo mi sono riagganciata a questo alla riflessione agli interventi che ho sentito ieri un po' con questo background e quindi riflettevo molto ieri insomma da tutti gli interventi quello che mi veniva da pensare appunto intanto un tema chiave è quello della necessità poi di queste varie comunità di tutti noi di ricreare un senso di appartenenza di ricreare il senso di comunità quindi nel programma noi abbiamo comunità di comunità di dei vari giochi io ho visto delle persone e quindi poi è da lì che partiamo quindi da persone che si mettono in gioco che lavorano che creano delle reti formali informali costruiscono un senso di comunità che è sempre in divenire su questo concetto di comunità volevo un po' riflettere perché mi è piaciuto molto leggere sul manifesto dell'associazione giochi antichi appunto l'idea di una comunità ludica che sia legata al territorio e non ha un'idea di appartenenza etnica questo proprio il cuore mi si è aperto perché in questo modo abbiamo un'idea processuale di comunità che si può costruire che indivenire che può accogliere che ha questo senso di inclusività anche persone che vengono da contesti più o meno lontani dall'Istria che possono essere anche turisti ieri c'era un po' questa tensione anche per quanto riguarda la comunità delle bisse questa cosa di dire noi abbiamo siamo in qualche modo viviamo il territorio in una modalità duplice c'è il momento in cui i turisti invadono il nostro paese e in qualche modo noi siamo così spettacolo per loro il pericolo è anche di avere questa sorta di dicotomia tra comunità buona e comunità cattiva comunità vera territoriale autentica e comunità che non lo è allora un po' secondo me va superata questa cosa perché nulla ci vieta di considerare anche il turista il migrante come parte di una comunità di un territorio che si cambia che è in un di venire storico e quindi in questo senso anche l'idea di costruzione di un senso di comunità si amplia questo è una cosa interessante un'altra cosa interessante è il rapporto anche con le dinamiche contemporanee nel senso che in ogni esperienza che ho sentito ieri il gioco la tradizione diventa un repertorio utile efficace per creare questo senso di comunità ma si apre a tutta una serie di fattori sempre storici in divenire quindi le donne che partecipano ai giochi e quindi questa trasformazione innovazione la trasformazione rispetto a pratiche innovative anche di gioco quindi il gioco stesso che si modifica costantemente non è solo una cosa di oggi ma quello che noi consideriamo tradizionale è il risultato di una serie di trasformazioni e quindi che non possiamo fissare in una regola in una modalità fissa ecco questa era un'altra riflessione sul tema invece della salvaguardia dei piani di salvaguardia una notazione che possiamo fare ne parlavamo ieri con Stefania è anche la possibilità di avere uno strumento in più cioè quello di riconoscere anche i luoghi tangibili in cui i giochi si realizzano gli spazi e quindi utilizzare anche la dimensione immateriale quindi l'articolo 7 bis del codice dei beni culturali come uno strumento di tutela e di salvaguardia quindi accanto al cosiddetto vincolo storico-artistico architettonico un'idea potrebbe essere qualora appunto ci siano delle difficoltà anche a tutelare valorizzare e mantenere conservare questi spazi di far capo anche al servizio sesto del ministero dei beni culturali della direzione generale che appunto gestisce questo tipo di procedure in modo che appunto il riconoscimento sia anche sul fronte della dimensione immateriale di questi luoghi questo insomma è quello che ne parlavamo prima rispetto a questa cosa e sarebbe anche interessante sentire un po' quello che ci raccontavamo fuori insomma come poi questo processo intanto adesso è avvenuto e si è pacificato però insomma come eventualmente questa anche quest'altro strumento in più potrebbe essere utile per i territori per costruire costruire dunque io sono Chiara Albanese e sono qui in veste di accompagnatrice e di osservatrice non conoscevo questa comunità di gioco però ci tenevo a sottolineare la connessione di questa l'atmosfera che si è creata in questi tre giorni che è di socialità di amicizia che ho ritrovato molto simile a quella che ho vissuto in veste di componente di un gruppo folcloristico e penso che questo genere di comunità vadano incentivate e sostenute il più possibile perché creano coesione creano coesione in un clima storico e politico di divisione per cui sicuramente esco da questi tre giorni con qualcosa in più e con la consapevolezza che insomma ci sono dei dei nuclei di resistenza sociale che ho apprezzato moltissimo grazie bene ma io in questi due giorni comincio a capire lo spirito del vostro lavoro e ve ne sono grati perché insomma io vengo vengo cioè sono qua a raccontarvi di un gioco che ci sconfina nello sport se vogliamo e che rispetto ad altre realtà per forza interessando un territorio vasto per forza deve avere inevitabilmente una sua struttura deve essere una sua organizzazione perché altrimenti se vai a interessare non so adesso abbiamo circa 30 squadre 30 paesi tutti gli anni ma che si alternano quindi vuol dire che noi abbiamo come platea come paesi interessati che si avvicina al centinaio in 5 province quindi per forza devi dargli una struttura cioè non puoi dire ci troviamo domani mattina però volevo significare questo che pur essendo uno sport e mi pare l'unico di quelli che abbiamo trattato in questi due giorni che ha a che fare con uno strumento con l'oggetto palla pallone elastico ecco qua quando parliamo di palla di palloni il discorso ti porta subito verso gli sport che operano che hanno adottano la palla quindi vai verso il professionismo vai verso il calcio vai verso la palla a bollo vai verso il basket no qua io parlo della pantalera in particolare cioè è uno sport che non 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 ha professionismo non ha è comunque sempre uno sport ma che è nato che vive nelle nostre borgate nei 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 paesi e giocavano in tutte le frazioni in tutte le cascine da sempre i miti della pantalera che sono miti qualcuna leggenda ma proprio a livello locale e sono tutti contadini sono tutta tutta gente che viene dal cioè è significativo il fatto che alcuni scrittori cioè indicavano come il giocatore di pantalera colui che non so a a a mezzogiorno posava l'attrezzo di contadino sovente si indica così la pompa a spalla perché una volta quello si usava per i trattamenti ed era i trattamenti erano ai vigneti diciamo settimanali avevano un intervallo settimanale quindi era una pratica che insomma è dura posavano la macchina la macchina da dar l'acqua così la chiamiamo noi e prendevano la fascia e andavano alla sagra di paese perché è molto legata alle sagre di paese anche adesso cerchiamo io spingo molto su quello di legarle così è a tutte le sagre le feste patronali e sovente al di là di questi campionati che andiamo a organizzare noi ci sono proprio le sfide locali nelle varie feste e a indicare questa questa origine per esempio quando ci si fanno delle sfide a livello locale di paese c'è un soggetto che è più forte il giocatore gli altri magari non vogliono giocare perché questo è troppo forte e allora si pensa a dare imporre degli handicap no a questo a questo questo campione e guardate che sovente l'indica per di farlo giocare con la macchina da dare l'acqua sulle spalle quindi vedete che l'indica per legato proprio all'attività del del contadino le piazze le piazze che noi usiamo le piazze la piazza ogni piazza ha la sua regola quindi proprio più 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 locale più legato alla alla comunità che dove la piazza rappresenta proprio non so il punto di ritrovo di tutta la comunità e quindi ogni 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 squadra che rappresenta quel quel paese ha impone le sue regole che possono essere quelle anche del dove cioè dove si sente più forte impone le regole della piazza delle lize del e anche della pantalera perché la pantalera poi se la vanno a costruire a inclinare in modo che affavorisca il proprio campau quindi proprio c'è legato assolutamente al territorio le regole ecco un'altra cosa che ho detto qualche giorno fa è che qualcuno se è venuto da me dice ma fate proprio quello certo facciamo quello noi tutti gli anni tutti gli anni adesso lo faremo anzi qualche anno lo facevamo già a dicembre non aspettavamo neanche gennaio facciamo delle riunioni di tutte le partecipanti ai nostri campionati e scriviamo le regole ma tutti gli anni più democrazia di così e non vi dico le grane questo c'è da impazzire ma quello facciamo quindi ed è rimasto secondo me lo sport che ha come strumento una palla quello che è veramente legato al territorio è quello che vogliamo continuare a fare ecco che poi per poter organizzare i campionati insomma ci dobbiamo strutturare e questo per forza ecco io più di quello per quanto diceva la la dottoressa io sul finisco finisco solo quello perfetto certo 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 perfetto va bene grazie io sono Fernanda Belloni io lo accompagno da 44 anni quindi non vi dico nulla però è stata un'esperienza veramente bella e questa volta di nuovo accompagnarlo veramente è detto possibile tocca di nuovo a me e invece no sono veramente contento di essere stato qua e aver ascoltato e aver conosciuto delle realtà piccole ma molto molto interessanti grazie allora ce l'abbiamo grazie allora beh io sono Cora anche io sono qui soprattutto per funziona ok lo devo tenere un po' vicino ci siamo conosciuti ieri Cora Russo e sono con Daniele e mio marito a presentare la la ruota beh trovo faccio questa rapidissima riflessione ho trovato molto interessante essere qui e conoscere tutte queste belle realtà alcune di alcune avevo già sentito parlare di altre no non erano note quindi è stata una bella occasione e se devo fare un piccolo pensiero su quello che è successo qui la riflessione che faccio è che rispetto anche al gioco della ruota che abbiamo portato l'ho sempre considerato un po' come scontato nel senso che il gioco c'è si sa che si fa in quel giorno lì è così e il fatto di venirlo a presentare di raccontarlo anche come dire la stessa azione appunto di raccontarlo di descriverlo di portarlo in un contesto come questo mi ha fatto dire vabbè ma allora c'è qualcosa cioè ha fatto mettere in valore in realtà quello che sta succedendo e quindi la riflessione che ne ho ricavato è che già quello che sta succedendo qui di fatto è un'azione che va nella direzione della tutela di questi patrimoni se possiamo chiamarli così quindi al di là del fatto di arrivare poi a come dire a rispettare una serie di regolamenti o di cercare di inserire queste attività all'interno di una cornice il processo stesso che poi porta ad arrivare lì credo che sia già un mettere in valore il patrimonio che esiste e io mi porto a casa questo anche il fatto di poter trasmettere questo anche alle altre persone che giocano con noi nel senso che sono sicura o quasi poi magari dopo il scontato ma lo verificherò che le persone che giocano alla ruota non hanno questa percezione del fatto che in realtà stanno trasmettendo nel fare quella roba lì una tradizione o comunque qualcosa che ha come dire un valore e il fatto di riportarlo e mi impegno in questo ritengo che sia già come dire la ricchezza che che questo processo ha messo in atto quindi grazie anche per questo io ho già parlato molto ieri quindi no però è vero la visione esterna ti dà sempre una dimensione diversa e questo è assolutamente vero ringrazio come ho ringraziato ieri perché conoscere partecipare con partecipare a degli eventi di questo genere arricchisce sempre molto quindi veramente è stata un'esperienza incredibile e l'incredibile è per quanto siano stati due giorni e mezzo per quanto ci siamo parlati intorno vorrei dire un bicchiere di vino ma sapete che questi giorni purtroppo per qualcuno si l'interno un tavolo in modo molto amichevole dietro un tavolo in modo leggermente più strutturato fa sì che si creino dei ponti e dei legami che non sono i legami della rete vent'anni fa scrissi un testo sui pericoli della rete ecco sono i legami tra le persone un po' questo che vorrei aggiungere rispetto a ieri la ruota come tanti altri ma vive di intimità e forse l'intimità l'intimità del singolo l'intimità del singolo messa in relazione con il paesano messa in relazione col territorio e forse è ciò che meno si riesce a trasmettere con la rete e quindi ecco perché non si trovano indicazioni in rete di questo perché non interessa perché l'intimità vissuta e forse quando diciamo abbiamo bisogno di comunità abbiamo bisogno anche di questo soprattutto oggi mi rifacevo anche la questione di portarli via dagli smartphone no? c'è e non voglio parlare di valori di cose io non sono capace di fare questo ma è chiaro lo si vede ma lo si palpa l'intimità è sempre meno è sempre meno profonda abbiamo bisogno di profondità e giochi così intimi ti invito sei mio amico sei mia moglie sei vieni vieni a giocare vieni a giocare con noi poi vabbè la lingua sì il patuama perché è una questione anche quella del posto lo si fa non con cattiveria lo si fa guarda ti suggerisco le parole da dire prendi anche questo di noi ed è un po' lo spirito ecco che vi ringrazio di aver portato qui in mezzo a questo gruppo interessantissimo appunto perché questo accento sull'intimità lo vorrei mettere non si vende nulla ma si vive dell'intimità questo è un aspetto secondo me ecco se potesse tutelare veramente la profondità dell'intimo non l'intimo ovviamente ecco non in questo senso credo che varrebbe la pena spingere grazie dunque sono già stato presentato in parte da si funziona da Valentina ma poi ci siamo già presentati tutti comunque mi chiamo Daniele sono un insegnante e un ricercatore insegno antropologia all'università di Perugia e alla Chongqing University of Art and Sciences in Cina Chongqing University of Art and Sciences e quindi credo di essere stato invitato come persona che lavora da anni sul patrimonio culturale a riflettere con voi su queste tematiche ma come diceva prima Chiara sono anche uno che viene dalle reti dall'associazionismo nazionale tuttora sono presidente del collegio scientifico della Fafiti che è la federazione associazioni folcloriche italiane quindi questa rete di associazionismo di volontariato di creatività bottom up per me è un ritorno a casa insomma sono qui in veste di universitario ma anche come appassionato frequentatore di questi spazi diciamo così ora quattro parole iniziali poi come diceva Paolo continuiamo il giro un flash complessivo da etnografo è da ieri che ci rifletto mi colpisce moltissimo un fatto che nessuno di voi abbia pronunciato la parola UNESCO noi la pronunciamo e allora questo mi fa molto riflettere sulla differenza che c'è reale sostanziale non retorica tra il concetto di bottom up è quello che noi facciamo istituzionalmente perché ci lavoriamo cioè che cos'è l'università che cos'è il ministero che cos'è l'UNESCO che cosa sono le persone che poi in carne e ossa fisicamente fanno le cose ma devo dire che non aver sentito pronunciare da voi la parola UNESCO mi rassicura perché invece io noto intorno a me una psicosi da UNESCO mi chiamano i sindaci della mia regione dicendoci ci dobbiamo candidare dico ma a che questo non è importante pensaci tu come pensaci tu e che mi invento adesso e ovviamente declino gli inviti no cioè i sindaci del Trasimeno dobbiamo candidare il Trasimeno all'UNESCO che vuol dire candidare tu la sai bene sta storia la conosciamo ma che vuol dire candidare il Trasimeno all'UNESCO quindi c'è una psicosi da UNESCO perché perché l'UNESCO ovviamente dà visibilità dà vantaggi e poi c'è invece una vitalità che noi antropologi definiremmo della ita la gente dalle molte vite ci sono queste vite allora c'è un doppio binario e io questo binario lo voglio osservare tutto ne parlavo ieri con Rosanna con Stefania con Valentina perché l'UNESCO è una grande potenzialità ma è anche un punto da esplorare dobbiamo capirne bene i funzionamenti quali sono i vantaggi e gli svantaggi adesso abbiamo iniziato la discussione che riprenderemo dopo quali sono le incongruenze che a volte l'UNESCO genera e invece quali sono le potenzialità che può creare però scindendo un attimo le due questioni invece entrando nel vivo di quello che voi fate della rete che costruite mi pare che ci siano dei temi importanti su cui noi ci siamo soffermati intanto alcune problematiche contingenti per esempio la questione della scomparsa delle competenze mi viene in mente un saggio di Daniel Fabbro molto bello in cui dice se noi riuscissimo a riprodurre la competenza a trasmettere la competenza degli artigiani non avremmo il problema della scomparsa della nave di Teseo avremmo gente che la sa ricostruire quindi il problema della trasmissione delle competenze è centrale l'altra questione che è più non marginale rispetto ai giochi ma insomma più affascinante ancora è quella della questione di genere che abbiamo aperto e su cui mi piacerebbe continuare a riflettere nel prossimo giro i giochi e le feste negli ultimi vent'anni hanno aperto una questione di genere che va di pari passo con un dibattito più ampio che riguarda tutto il comparto delle nostre relazioni sociali alcune questioni invece più generali su cui vorrei riflettere insieme a voi sono quelle della autenticità non autenticità e rapporti con la questione del folclorismo inviterei tutti noi a non creare steccati netti io lavoro molto a partire dagli studi della scuola tedesca Herman Bausinger che hanno superato la divisione tra cosa è folcloristico cosa non è folcloristico cosa è autentico e cosa non è autentico alla fine qualsiasi cosa noi facciamo ha una sua componente di autenticità anche se sta nel contesto altrimenti rischiamo di creare una separazione tra i mutandoni della nonna che sono autentici e invece il fatto che io ricostruisco i mutandoni della nonna oggi non è più autentico allora in un gioco è autentico solo come si faceva cento anni fa oppure no è autentico perché lo facciamo oggi e quindi lo cambiamo lo mutiamo lo rinventiamo ogni anno rifacendo le regole diceva prima anche Rosanna attenti a cavalcare il contemporaneo perché le pratiche culturali vivono se noi le cambiamo guai se qualcosa che è una pratica culturale non cambia è un bruttissimo segnale vuol dire che è morta allora questa questione dell'autentico mi pare un tema su cui riflettere fortemente le poetiche del tempo un altro tema nella festa che io ho studiato per anni così come nei giochi il tempo non è lineare ieri mi sono preso un appunto a un certo punto a Bardolino credo c'era il doge insieme a il doge di Venezia insieme alle barche costruite ricostruite del tutto 50 anni fa che poi però la gara è nata nel 1920 allora nella festa diventa una sorta di momento magico un taglio nel tempo di passaggio un margine in cui il tempo non è più lineare è un tempo poetico ricostruito e questo credo sia un aspetto molto importante del gioco come della festa la sospensione della nostra ansia della cronologia in quel momento noi possiamo fare tutto è uno spazio di creatività per me molto importante infine la socialità e la serenità di cui ha parlato molto Daniele no no me lo ricordo bene perché ce n'è bisogno e questo tipo di associazionismo in un momento storico come questo di grande ansia di grande utilizzo diffuso di psicofarmaci per varie ragioni non mi pare una questione trascurabile quindi il gioco sul piano della salute sociale la salute diffusa e di comunità mi pare un tema su cui fare fare leva finisco sul concetto di comunità su cui anche io ho bisogno di porre un po' di attenzione io accetto la definizione di comunità e in questo la convenzione di Faro di cui poco si ha parlato mi aiuta se è a patto che sia una comunità come quella che voi ci state descrivendo fatta di persone che praticano attivamente che si riconoscono intorno a una certa pratica e che la cambiano e che è una comunità fatta di inserimenti uscite turisti persone che vengono entrano escono mogli che vanno a stare nei paesi non posso accettare una comunità che corrisponda a dei confini geografici tutto quello che rappresenta un confine di separatezza per me va abolito e il gioco in questo ha una grande forza per questo preferirei sottolineare in quello che voi avete detto la potenza della della rete del social network della rete sociale quindi se dovessi trovare una definizione per quello che voi che ci state descrivendo piuttosto che l'idea della comunità che capisco la dobbiamo utilizzare per queste normative io ci vedo dentro molto network reti di reti mi vengono in mente gli studi della scuola di manchester dei sociologi americani degli anni 70 persone che connettono altre persone che connettono altre persone che connettono altre persone allora voi insieme costituite piccole comunità che sommandosi ad altre comunità fanno grandi comunità e sono comunità di comunità che arrivano fino a i paesi esteri arrivano fino alla croazia arrivano fino allora dentro questo gioco c'è una potenza che va oltre l'idea del frazioncina siamo una comunità ce ne stiamo da soli costruiamo l'identità del gioco e no c'è una transnazionalità un'esplosione dell'idea della connessione il gioco connette in maniera molto più ampia e quindi io ci vedo da questo punto di vista una forza maggiore e dentro questa rete di reti io sento di poterci stare come operatore del settore come studioso e anche come praticone insomma mi ci trovo a mio agio non mi troverei a mio agio dentro una comunità che invece costruisce l'identità di un paese perché mi pare che non sarebbe la direzione giusta ecco queste sono le prime suggestioni che sento di porre alla vostra attenzione io sono Moreno e penso che mi conosciate tutti io non voglio entrare nel merito di particolari riflessioni in questo giro al limite mi espongo poi dopo siamo noi di Mede in questo caso siamo i padroni di casa quindi facciamo accogliamo vi abbiamo accolti come ospiti e c'era un po' di timore in questa in queste giornate per affrontare queste giornate perché non tanto per il contenuto della giornata stessa ma per come poteva essere percepito da chi veniva per la prima volta a Mede una realtà come la nostra io ho avuto modo in questi anni di dialogare molto spesso con con Paolo con Aga abbiamo avuto diversi incontri su questi temi no e ho avuto la fortuna di partecipare a tutti e due gli incontri precedenti che si sono tenuti l'anno scorso a a Verona e questa primavera a a Roma devo dire che più partecipo e più mi rendo conto che è necessario che la gente sia informata sia conoscenza delle diverse comunità perché di comunità ne ho viste tante ne abbiamo viste a Verona e a Roma erano abbastanza simili ma ne abbiamo conosciute nell'arco del tempo diverse con varie sfaccettature e tutte hanno un loro contenuto tutte hanno una loro una loro essenza che deve essere in qualche modo trasmessa e noi dobbiamo noi intesi come spettatori dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter renderci conto che esiste un mondo dell'immateriale che si concretizza nel momento in cui questo immateriale diventa materiale cioè nel momento in cui il gioco la tradizione viene di fatto concretizzata realizzata giocata e questo penso debba essere uno dei percorsi perché più la gente conosce più la tradizione non si perde noi nel nostro piccolo avevamo corso il rischio che si perdesse la tradizione di un gioco come quello della Lippa che è un gioco di fatto internazionale perché è esteso su un ampio territorio del continente e non solo di questo continente e il fatto che sia stato ricostruito un percorso all'inizio degli anni 90 che ci ha portati fino ad oggi ha fatto sì che comunque un po' della vecchia tradizione dei nostri genitori dei nostri avi pur non essendo tutti noi di questa comunità totalmente autottoni perché questi erano terreni erano territori di confine noi eravamo nei secoli scorsi oggetto di discambio tra francesi e spagnoli tra Reno Sabaudo e austriaco austro-ungarico quindi il confine era al Ticino poi si spostavo per cui queste erano terre in cui le popolazioni comunque arrivavano perché erano terre magari più fertili perché c'è stata una forte immigrazione nel periodo antecedente alla seconda guerra mondiale c'è stata una forte immigrazione successiva alla seconda guerra mondiale quindi le tradizioni del posto non necessariamente sono le tradizioni di famiglia ma il fatto che comunque ci sia un gioco un qualcosa che unisce la comunità la rende comunità pur non essendo comunità buongiorno di nuovo Pierangelo Boccalari presidente dell'associazione Fiorgalipo per forza costretto da loro comunque niente quello che posso dire innanzitutto mi scuso per il linguaggio io la quinta elementare sento qua dei discorsi veramente molto professionali sono molto contento di sentire queste per me nuove parole scusate se ecco io vado un po' a reto niente io sono contento innanzitutto per una cosa di essere stato tra i promotori con il professor Mazzinari colui che ha inventato ha recuperato la Ceramela io mi collego al fatto che ha detto prima Moreno noi eravamo piemontesi prima poi siamo passati i Lombardi dopo la seconda guerra di indipendenza e questa parola Ceramela proviene dal piemontese Cirimela giusto esatto che poi sia universalmente chiamata io sono contento ecco di avere un po' individualmente da solo preso alcune iniziative che allora il centro culturale a Misani non percepiva per cui io ho partecipato nel 94 no ho partecipato sono stato io che sono riuscito un po' nel 94 a invitare in forma un po' autonoma diciamo ma poi sono stato un po' sono stato aiutato dalla FIGEST alcuni componenti della FIGEST da qui ricordo il dottor Bellezza di Perugia non so se esiste ancora o meno se n'è andato niente e poi nel 96 a intro dico bene voi che siete della intro giusto esatto nel 96 e lei mi ha colpito una cosa parlando prima che si parlava di dialettica tra loro parlavano la loro lingua non so se sarà il pato asa esatto ed era in corso un consiglio comunale in attesa che si aprissero i lavori di questo convegno e parlavano solo ed esclusivamente nella loro lingua noi eravamo lì in attesa dell'orario e non capivamo proprio niente che naturalmente essendo di un'altra lingua eccetera e poi mi ricordo con Pierino Dodri che passò qui da me da prendermi a Modena che c'era un convegno organizzato da gli amici della russola di Sestola di Modena lì esatto ecco poi mi ricordo che non so se ho chiamato lui nell'anni 2000 2001 no 2002 mi sembra a Vigo no mi scusi presidente ho detto ascolti io faccio parte di una piccola comunità dove si gioca eccetera possiamo venire a Verona al Tocati a vedere ecco da allora è nato questo diciamo questo chiamiamolo gemposti o chiamarlo gemellaggio ma così in forma amichevole ecco per cui ecco da quella volta lì è nato questo rapporto di amicizia eccetera che siamo stati coinvolti in questo girone così che ci ha portato a conoscere gente meravigliosa gente carinissima che a sentir parlare non sono abituato a sentire queste parole chiedo ancora scusa eccetera ad ogni modo ecco sono contento di tutto questo e non mi sarei mai aspettato qui a Mede una una roba del genere in termine proprio terra a terra no mi emoziona no anche perché no scusa io sono contento anche che l'assessore Moreno qui presente Bolzoni e insomma molto partecipe molto attivo grazie a lui se riusciamo tra virgolette ad andare un po' avanti grazie grazie Agostina archivio di identografia storia sociale di regione Lombardia torno per un attimo al ruolo delle istituzioni cosa è successo in regione legandomi soprattutto al tema della salvaguardia UNESCO e la convenzione del 2003 in realtà per regione Lombardia è stato uno stimolo per riprendere il discorso di Davide perché è successa Daniele scusa è successa una cosa importante ma istituzionalmente voluta anche come direzione politica regione Lombardia attraverso l'archivio di etnografia si è dotata di una legge per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale ormai dieci anni fa nel 2008 quindi la convenzione del 2003 è stata una forte spinta che ha dato degli indirizzi anche politici in questo senso attraverso un istituto all'interno di regione e forse proprio questo è il motivo per cui è successo questo processo questo percorso che già aveva un'esperienza dagli anni settanta cioè l'archivio lavorava all'interno dell'istituzione regionale da parecchio tempo e quindi aveva anche una conoscenza del territorio che è una cosa secondo me che non va sottovalutata ed è molto importante una legge io dico non è mai innovazione cioè non crea innovazione è innovativa ma è lo strumento se lo penso dal punto di vista istituzionale è lo strumento che consente dunque di attivare dei processi che sono comunque complessi non sono semplici ma che ci ha fatto crescere in questi dieci anni perché attraverso la legge siamo riusciti ad attivare dei bandi quindi a finanziare questo è l'altro aspetto dolente ma molto importante finanziare dunque comunità di pratica progetti territoriali che lavorassero con le comunità e arrivo al secondo momento per attivare dunque ricerche certo ma anche attivare le stesse comunità in primo luogo a riconoscere il valore del proprio patrimonio e in secondo luogo l'altro aspetto secondo me molto importante ad attivare quei processi di coinvolgimento di cui abbiamo sentito parlare l'altro strumento di cui in questi anni l'ufficio l'archivio si è dotato in un processo comunque complesso lungo è stata la creazione di un inventario perché questi bandi avevano anche la necessità di costruire all'interno di regione qualcosa di tangibile parlando di immaterialità di materiale anche l'inventario è di fatto uno strumento che consente in qualche modo alle comunità di prima di tutto vedersi rappresentate ma nel passaggio successivo ad attivare quei processi di autorappresentazione che qui abbiamo visto molto bene nel racconto che le comunità di pratica hanno e fanno di sé quindi legando i due aspetti di cui ho accennato prima al gioco siamo arrivati un po' dopo anche perché l'archivio di gioco si è occupato poco in effetti però la conoscenza con AGA ha attivato un'altra serie di processi che hanno portato nel 2018 i nostri bandi sono legati alla legge al patrimonio immateriale ma spesso abbiamo la possibilità di attivare delle finestre tematiche a seconda degli interessi anche che possono arrivare dunque dai territori questo è un altro aspetto e nel 2018 uno degli elementi dei temi che abbiamo dedicato al bando di regione Lombardia è stato appunto il tema del gioco attraverso il quale AGA ha presentato un progetto che è stato finanziato di ricerca sulle comunità ludiche lombarde quindi per noi è in questo senso una nuova esperienza sulla metodologia ci sarebbe molto da dire anche perché se parlo non come istituzione ma come ricercatrice devo dire che questo processo che abbiamo attivato sui territori ha cambiato molto anche il nostro sguardo il nostro sguardo non è più cioè è davvero da un lato di mediazione e dall'altro anche di coinvolgimento partecipativo nella ricerca da parte delle comunità con AGA questo vabbè per loro competenza per loro conoscenza credo ci arricchirà sicuramente a proposito di metodologia sul terreno e di partecipazione appunto delle comunità di pratica legate ovviamente al gioco di metodologia